Amici e amici di Rivolonbrite, siamo qui con Marco Berri che nella sua carriera televisiva si è sempre occupato di persone che ce l'hanno fatta. Sei anche fondatore e presidente di una ONLUS che si occupa di bambini con disabilità. Se puoi parlarcene un po' e com'è nata questa idea? Guarda, la ONLUS porta il mio nome ed è un gruppo di amici che ha deciso di occuparsi di aiutare i bambini. Il progetto sulla disabilità si chiama Iron Mind. Il progetto è la possibilità di avvicinare il maggior numero di bambini e ragazzini disabili allo sport. Quindi andiamo a cercare quelli che non fanno sport per paura di farsi male, per paura della vergogna, questo è più un problema genitoriale. E li avviciniamo allo sport, facciamo questi due progetti all'anno, in due giorni facciamo provare otto sport differenti. Che cosa vuol dire questo? Che alla fine del secondo giorno, dopo che hai fatto otto sport, vuol dire che ti puoi permettere di fare qualsiasi sport e l'unica cosa che devi fare è scegliere lo sport. Grazie mille Marco, alla prossima. Grazie mille Marco, alla prossima.